Eccoci qua, un bel tutorial questo, un po' impegnativo a dirla tutta, perché parliamo di ancora linee del tempo, però geolocalizzate, significa contemporaneamente andiamo a costruire una linea del tempo inserendo l'informazione geografica, interessante perché, cosa che a me piace tantissimo, valichiamo in questa maniera quello che si chiama il confine tra le discipline. Attenzione, non è una questione di storia e di geografia in questo caso, ma la tecnologia come la storia e la geografia sono al servizio di quello che vogliamo raccontare, forse anche la storia dei campionati di calcio, perché qualsiasi evento, qualsiasi scoperta, qualsiasi cosa scritta risente evidentemente del tempo in cui è stato fatto, quindi delle condizioni per esempio sociali, economiche, storiche, contingenti di quel periodo, ma risente anche del luogo dove è stato fatto, per cui è interessante poterlo vedere insieme. Ci occuperemo di quelli che si chiamano processi di open data, evidentemente, cioè andiamo a costruire un database, un insieme di informazioni, questa volta però fatto da noi, che andrà letto da una mappa. Il sito di riferimento si chiama Time Mapper, vi faccio vedere un esempio rapidissimo, lo apriamo in un'altra finestra, eccolo qui, vedete che cosa succede? Abbiamo il contenuto, noi vedremo anche tutto sommato come inserire delle foto e dei video, abbiamo la linea del tempo, vedete che se posso accorciarne la visualizzazione, mentre la linea del tempo statica di per sé ti indica un anno, qui ti fa vedere oltre l'anno anche la durata, questo è un mano a mano raccolto un po' di informazioni sui vini della preistoria, ovviamente io posso andare a leggere la mappa in questa maniera, vedere allo scorrere della linea del tempo i vari contenuti, andarli a prendere manualmente, evidenziarli manualmente, posso andare a scorrere la cronologia, vedete con le frecce andare avanti e contemporaneamente posso, vedete, utilizzando il mouse andare a vedere il vino appoggio marino piuttosto che il vino siciliano e quindi interrogare la mappa, quindi ci sono tante chiavi di lettura. Andiamo a vedere come si fa, i passaggi sono semplici ma sono abbastanza, innanzitutto scoprirete nel sito Time Mapper che avete un tutorial di un minuto e quindi vi chiederete perché dovete ascoltare me per un quarto d'ora, però insomma noi lo sviscereremo in dettaglio, home page semplice, richiesto un accesso ma è evidentemente gratuito, assolutamente gratuito, non ci sono versioni a tempo limitato o cose del genere, proprio perché si basa sul concetto di dati aperti, di struttura open. Creiamo una nuova linea temporale, questi non ce li avrete voi, sono lavori fatti dai miei ragazzi che alcuni andranno per la verità cancellati. Andiamo a vedere, creiamo un foglio di calcolo, adesso vi faccio vedere come, qui caricheremo i nostri dati, possiamo scegliere una mappa con il tempo, quella che avete visto, possiamo anche fare solo una sequenza temporale, possiamo fare soltanto una mappa, quindi possiamo scegliere anche la tipologia. Attenzione alla data, il formato c'è quello USA che viene prima il mese, poi il giorno e poi l'anno e poi c'è il formato europeo, nostro, giorno, mese, anno e anche la cronologia possiamo scegliere se partire dal primo evento o dall'ultimo evento. Pubblichiamo no perché non abbiamo ancora messo niente. Come faccio a creare il foglio di calcolo? Il foglio di calcolo che posso comunque farvi vedere, giusto per farvi capire l'idea di dato aperto, time mapper, rientriamo nella home page del sito, per cortesia, quindi entriamo, eccolo qui, entriamo nella home page del sito, ovviamente adesso non mi ci fa entrare, per qualsiasi mappa mi dà l'accesso al, mi dà l'accesso al, mi dà l'accesso al, come si dice, ai dati, cioè dati mi fa vedere questo foglio di calcolo, va bene, non lasciate perdere questo tentativo maldestro. Se andate nelle domande ripetute, eccolo qui, abbiate il modello, quale struttura deve avere il foglio di calcolo, con modello voi lo potete scaricare e quindi ci potete iniziare a lavorare. È un lavoro che ho già fatto per accelerare, ne ho fatto una copia per conservare l'originale e magari utilizzarlo successivamente, eccolo qui, qual è la struttura? Una riga nera, questa riga nera rappresenta gli argomenti che la mappa va a leggere successivamente. Titolo, inizio e fine, mi rappresenta il periodo temporale che vado a descrivere. Descrizione, posso scrivere quello che voglio qui dentro. Pagina web, la pagina web va come link ipertestuale al titolo che io ho inserito, quindi vedete posso già ampliare la forma di lettura. Media, inserisco un video o un'immagine, ho bisogno di inserire il link, ne parliamo fra un attimo. Didascalia del video, dell'immagine, se devo ringraziare qualcuno, è giusto citarlo se ho preso un'immagine non mia o non di mia proprietà, il posto e la latitudine e longitudine è fondamentale per la mappa. Io le istruzioni ve le tolgo, vi voglio far vedere una cosa che in generale mi dà l'errore, non è possibile recuperare, vedete c'è una riga di codice qui, teoricamente quando voi mettete la città lui dovrebbe andare a recuperare automaticamente la latitudine e longitudine. Io preferisco farvelo vedere con l'inserimento manuale, perché questo è un sistema che a volte potrebbe restituire messaggi di errori o valori non esattamente precisi. Ieri ho provato mettendo il New York e mi sono ritrovato al Polo Nord, sicuramente l'errore è il mio. Ok, cancelliamo anche questo, che cosa raccontiamo? Piuttosto che scrivere sciocchezze, le sciocchezze le metteremo solo le fotografie, mi era venuto in mente per esempio il viaggio in Italia di Goethe, ho trovato questo sito in cui racconta oltre a un sacco di altre cose ovviamente la cronologia, andiamo a vedere, mettiamo partenza, la prima cosa però diamogli un titolo, lo chiamiamo il mio file, viaggio in Italia, partenza 3 settembre 1786, vedete che quando l'evento è puntuale basta mettere inizio e fine la stessa data, descrizione, metto partenza da Karlsbad, attenzione vedete io sarò sintetico perché esigenze di tempo e di tutorial, però qua potete scrivere quello che volete, quindi aspettate vado a mettere la, mi piace che sia fatto bene, potete mettere quello che volete, quindi se lo fate fare ai vostri ragazzi è possibile raccontare una descrizione, un momento storico o qualcosa del genere, vediamo che succede se inserisco web page, inserisco proprio questa che mi racconta il viaggio in Italia, vedremo dove va a finire, media, qui devo inserire un link, non posso inserire l'immagine o il video, è un foglio di calcolo, per le immagini come faccio? È abbastanza semplice, io uso questo strumento post image gratuito, hosting immagini gratuito, vi dà tutto lo spazio che volete per inserire e conservare le vostre immagini e generare dei link di riferimento, ve lo faccio vedere, lo potete usare anche senza account e attenzione, però perdete poi traccia dell'immagine, mentre se io faccio accedi, il mio account, vedete che ho a disposizione tante gallerie, andiamo a vedere qui, avevo fatto una galleria di prova, proviamo a caricare un'immagine, una a caso per esempio questa del Ponte del Diavolo di Salerno, l'acquedotto romano, vedete che per ogni immagine caricata voi trovate una serie di link che potete utilizzare, non lo so, per siti web, per forum, a noi interessa questo, il secondo, il link diretto, il collegamento diretto, lo copiamo e lo andiamo ad inserire nella nostra mappa, fatto, una didascalia, il Ponte del Diavolo di Salerno, così media credit, niente in questo caso, posto, Karlsbad, ovviamente adesso a Karlsbad noi dobbiamo andare a dare delle coordinate, latitudine e longitudine, in questo caso scritte nella stessa cella come latitudine, virgola, longitudine, i sistemi sono mille, inventatevi quale ritenete più comodo, io vi faccio vedere il mio, che è OpenStreetMap, il termine di OpenData è la mappa di riferimento costruita dai cittadini, allora vedete in questo caso, questo è il Monaco di Baviera, lo vediamo dopo, Karlsbad in Germania, lui mi riporta Karlsbad, eccolo qui, io ingrandisco, come faccio? Per esempio io so che questo, questo è il posto da cui è partito Goethe, manina sopra, tasto destro, mostro e indirizzo ed è facilmente recuperabile da qui, esattamente la stringa che serve a me, a meno di badare che il formato dei dati sia un formato testo normale, CTRL B, io inserisco latitudine e longitudine. Seconda tappa, giusto per metterne un altro, non è che la facciamo tutta, 6-7 settembre a Monaco di Baviera, per cui io metto prima tappa e qui ci mettiamo 6-9-1786 e qui mettiamo 6, scusate, 7-9-1786. Raccontiamo che è tappa a Monaco, non mettiamo link di riferimento, tutto, invece di una fotografia proviamo ad inserire un video, YouTube, vado a vedere e qui scriviamo, non lo so, viaggio in Italia di Goethe, eccolo qui, viaggio in Italia di Goethe, prendiamo questo, qua devo solo copiare il link, non devo fare cose complicate, devo copiare il link, eccolo qui, lo vado ad inserire qui dentro, non metto niente, media credit metto YouTube perché l'ho preso da lì e qui mettiamo Monaco di Baviera. Andiamo a vedere OpenStreetMap, Monaco di Baviera, non cambia, vado, trovo Monaco, trovo un posto che mi piace, se non so esattamente da dove è partito, ad esempio questo parco pubblico mi sembra interessante, mostra indirizzo, copio, CTRL-C, vado qui, controllo il formato, siate rigorosi su questo che se no vi trovate in situazioni complicate, ecco qui l'abbiamo fatto, abbiamo il nostro file, abbiamo il nostro database, come faccio a pubblicarlo? Utilizzo una delle cose più straordinarie delle applicazioni di Google, la possibilità di pubblicazione diretta sul web, trasformo questo file in un sito web, in un file web e comunico il link di condivisione alla mappa, per cui la mappa cosa fa? Il tempo reale va a prendersi latitudine e longitudine, inserisce un market e va a mettere tutte le informazioni del caso, facciamolo, più facile a farsi che a dirsi, pubblichiamo sul web, intero documento lasciamo così, potrei scegliere altri formati, ma va bene esattamente questo, chiudo, chiudo, l'ho pubblicato sul web, condivido, genero un link condivisibile, fate attenzione che sia solo l'utente e quindi la mappa o chi lo va a vedere può solo vedere senza cambiare, copiamo il link e il gioco è fatto, torniamo nella nostra mappa e qui adesso non devo fare altro che andare ad inserire il mio link, quando rilascio viene generato automaticamente il titolo, vedete, il titolo della mappa è questo, ho fatto tutto, pubblico e dopo nemmeno un secondo ho esattamente, vedete, la partenza, vedete quando abbiamo messo il link di riferimento? Se io apro in un'altra scheda, guardate cosa appare il sito dove c'è tutta la storia del viaggio che avevo preso, ora che posso fare? Posso ragionare in termini di cronologia, quindi vado a vedere quello successivo, eccolo qui, posso andare, forse c'è qualcosa che non va sulle date, ma per il momento ci sta bene così, prima tappa e seconda tappa, posso andarlo a vedere sulla mappa, ecco qua vedete che mi fa vedere la partenza e la prima tappa, posso andare, vedete, giù mi dà il senso della giornata, se vado a vedere i dati di origine, attenzione, è interessante questo e lui mi fa vedere la mia tabella, c'è qualcosa, ah, forse è rimasto ancora la formattazione con la data statunitense, mette marzo, luglio e giugno, ok, abbiamo fatto questo piccolo errore, ok, quindi come vedete la mappa è stata creata in tempo reale, ma la cosa veramente bella non è questa, è che, eccola qui, ho perso per un attimo la mappa, io l'ho creata, vogliamo aggiungere un altro punto, vogliamo andare a vedere che succede, andiamo a vedere la cronologia, un bel, ecco qua Napoli a casa mia, dal 25 febbraio al 29 marzo e quindi 1787, quindi noi metteremo Napoli, metteremo allora la prima data, qual era? Lui è arrivato il 25 febbraio, quindi è arrivato il 2, 25, 1787 e se ne è andato il 29 di marzo e quindi metteremo 3, 29, 1787, avrà mangiato come il porcellino, possiamo mettere quello che vogliamo, andiamo a rivedere l'inserimento di una foto, quindi io carico un'altra immagine, scelgo la cartella che era mappa di prova, scelgo un'altra immagine, per esempio i fondatori della scuola medica salernitana, ma solo perché ha fatto la ricerca mio figlio qualche giorno fa, copio il link, lo vado ad inserire, control B, control B, eccolo qua, inserimento e questo è Napoli, Napoli, dobbiamo andare a vedere OpenStreetMap, Napoli, faccio vai, eccoci qua, questo lo conosco meglio, quindi insomma ce ne andiamo per esempio alla riviera di Chiaia, facciamo mostra indirizzo, copiamo, control C, andiamo nel nostro database, questo lo possiamo chiudere, andiamo nel nostro database qui, andiamo a controllare il formato che sia testo normale e inseriamo le nostre coordinate, la cosa bella è che quando io faccio aggiorna la mappa in tempo reale, vedete che la mappa si è aggiornata inserendo i miei dati, perché è una cosa straordinaria questa? È una cosa straordinaria perché il titolo non l'ho messo probabilmente, è interessante perché facendo questo voi in tempo reale, eccolo qua è uscito, in tempo reale voi potete aggiornare la mappa, il collegamento è dinamico, per cui ora immaginate lo scenario didattico per un attimo, che alla fine dei conti la costruzione la mappa è finita, lo scenario didattico, voi prendete questo file, lo condividete con i vostri alunni per esempio con una G Suite, per cui potreste costruire il libro di storia, ogni volta che uno degli studenti studia un evento con una data lo va a inserire, ci mette tre minuti, alla fine dell'anno avete una situazione mondiale in cui fate questo, perché farlo da soli? Quando voi potreste per esempio condividere con altre classi, con altre scuole, quindi vedete come uno strumento semplice di creazione di una mappa in linea del tempo diventa uno strumento open, partecipato, che raggiunge competenze che valicano quelle singolarmente disciplinari, ma che rientrano come competenze di cittadinanza, lavoro di gruppo, si possono fare gruppi che correggono, insomma è un lavoro semplice, veloce, ma che ha un impatto didattico enorme, spero possa tornarvi utile, vi saluto e al prossimo tutorial, un abbraccio! Ah no no no, quale abbraccio? Un attimo, torniamo un attimo indietro, una cosa a cui tengo tantissimo ed è importante, ovviamente è visibile a tutti nel momento in cui avete il link, licenza, permettetemi questo, licenza, attenzione questo è importante, cc, automaticamente questo rientra sul common creative, cioè sulle licenze aperte, è un materiale che avete prodotto voi, ma non è di vostra proprietà, quindi si può liberamente utilizzare, vedete che lo dice, sei libero di copiare, ridistribuire il materiale in qualsiasi supporto o formato, potete remixarlo, trasformarlo e costruisci qualcosa su questo materiale per qualsiasi scopo o anche commerciale, questa è la licenza che avete a disposizione, quello che dovete fare, buy, questo è importante, dovete sempre citare la fonte da cui l'avete preso, anche questo fa parte di una crescita culturale. Ora veramente vi saluto, l'abbraccio gloridò volentieri e ci vediamo al prossimo tutorial.